Panerai Luminor Base, l'eleganza essenziale. Se cercate un orologio da polso che vi regali un'esperienza di orologeria di alta qualità, senza rinunciare a un design elegante e pulito, il Luminor Base è il modello che fa per voi. Questo orologio, nato dalla maestria artigianale del marchio, si distingue per la sua essenza minimalista e la sua funzionalità impeccabile. La storia del Luminor Base è legata alla tradizione di Panerai nel fornire orologi da polso agli incursori della Marina Militare Italiana. Il Luminor Base è infatti il risultato dell'evoluzione del modello Radiomir, che fu il primo orologio creato da Panerai per le forze speciali italiane negli anni 30. Nel 1949, Panerai brevettò una nuova sostanza luminescente a base di trizio, chiamata Luminor, che sostituì il precedente radiomira a base di radio, che era tossico e instabile. Il Luminor era più sicuro, più luminoso e più duraturo. Nel 1950, Panerai introdusse una nuova cassa per il suo orologio Luminor, che presentava una forma più arrotondata e un sistema di protezione della corona a leva. Questo sistema, brevettato da Panerai nel 1956, consisteva in un ponte metallico che copriva la corona e la bloccava, impedendo l'ingresso di acqua e polvere e aumentando la resistenza all'acqua. Il Luminor Base è un orologio che unisce semplicità ed eleganza, senza rinunciare a un'artigianalità e precisione eccezionali. La prima cosa che colpisce quando si guarda il Luminor Base è la sua cassa, che presenta una forma arrotondata e un sistema di protezione della corona a leva. La cassa del Luminor Base è realizzata in materiali pregiati, come l'acciaio inossidabile o il titanio, che ne garantiscono la robustezza e la durata. La cassa può essere anche realizzata in materiali innovativi, come il bronzo, la ceramica o il carbotec, che ne esaltano la bellezza e la personalità. Il quadrante del Luminor Base è caratterizzato da una leggibilità ottimale, grazie ai grandi indici e alle lancette luminescenti, che permettono di leggere l'ora anche in condizioni di scarsa luminosità. Il cinturino del Luminor Base è realizzato in materiali pregiati, come il cuoio, che ne garantisce il comfort e la resistenza. Oltre ad essere un oggetto di grande bellezza e qualità, è anche un investimento sicuro e redditizio. Il Luminor Base, infatti, trae ispirazione dagli orologi che il marchio forniva alla Marina Militare Italiana negli anni 40 e 50, e che erano noti per la loro robustezza e la loro luminosità. Il Luminor Base, quindi, rappresenta un omaggio alla storia e al legame tra il marchio e il mondo della nautica. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di possedere un pezzo di storia e di arte orologera, scegliete il Luminor Base e non ve ne pentirete.